Gag workout avanzato senza salti. Alleniamo gambe, addominali e glutei con varianti di squat, affondi e plank. Vamos! Ok, iniziamo. Mezzo squat. Iniziamo subito ad attivare tutta la parte bassa e successivamente la parte alta. Scaldiamo bene il nostro corpo prima di iniziare questo super workout. Vamos! 10 secondi e passiamo alle spinte indietro. Vai! Respirazione, naso e bocca. 3, 2, 1. Cambio. Due spinte indietro. Vai! Scaldiamo bene. Su. Esercizio successivo. Discesa frontale su gamba alternata. Vai! Vai! Cambio. Un lato e poi l'altro. Ancora 3, 2, 1. Allargo le gambe. Vai! Discesa. Posso piegare leggermente il ginocchio da un lato e dall'altro. Scaldiamo bene tutto il corpo. Attiviamo parte alta, parte bassa. Gambe, glutei, schiena. Inizio la respirazione. Esercizio successivo. Calciata ai glutei. Ancora. 3, 2, 1. Calciata ai glutei. Vai! Salgo. Respirazione continua. Sguardi in avanti. Postura. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Torsione del tronco. Andiamo ad attivare il tronco. Respiro. 3, 2, 1. Vai! Torsione del tronco. Piego leggermente le gambe. movimento contro il lato. Non esagerare. Vai! Lento. Attiviamo piano piano tutto il corpo. Ancora 3, 2, 1. Torsione del tronco veloce. Vai! Leggermente più veloce da un lato e dall'altro. Non forzare il movimento. Non andare troppo dietro. Respira. Esercizio successivo. Discesa fianchi al ginocchio. Ancora 3, 2, 1. Vai! Testa dritta. Discesa fianchi. Altezza. Ginocchio. Vai! Scendo. Respiro. Esercizio successivo. Torsione più tocco gomito-ginocchio alternato. 3, 2, 1. Vai! Incrocio da un lato e poi dall'altro. Respiro. Salgo bene con le ginocchia. Incrocio gomito-ginocchio opposto. Vai! 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 3, 2, 1. Cambio. Mobilizzazione della colonna. Vai! In arco e in curvo. In arco e in curvo. Vai! Bel riscaldamento. Bel allenamento. Vamos! Respiro. Ancora 3, 2, 1. Apertura e braccia dietro. Vai! Seguo il movimento del braccio dietro. Non forzare il movimento. Respira. Respirazione. Vai! Ancora 3, 2, 1. Cambio. Circonduzione delle braccia dietro. Vai! Movimento bello ampio. Attiviamo tutta la parte alta. Spalle, braccia. Vai! Esercizio successivo. Sumo squat più elevazione braccia. 3, 2, 1. Allargo le gambe. Allargo le punte. Parto dall'alto. Scendo. E risalgo. Vai! Respiro. Testa dritta. Scendo. Sumo squat. E levo le braccia. Vai! Ancora. Su. 3, 2, 1. Spostamento laterale. Vai! Da un lato. E salgo. Solo da una parte. E poi cambiamo lato. Vai! Apro la punta in fuori. Mantengo la respirazione. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Cambio lato. Vai! Dall'altra parte. Sempre respirazione. Attiviamo anche le braccia nel movimento. Vai! Su. Su. Respira. Respira. 3, 2, 1. Ok. Iniziamo il nostro super workout. Prendiamo i nostri pesetti. E partiamo subito con... A fondo indietro. Con i pesi. Fondo indietro alternato. Respiro. Ci mettiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai! A fondo indietro. Alternato. Respiro. Braccia tese. Attiviamo gambe e glutei. Vai! Respiro. Ancora. Vai! 20 secondi. Ginocchio sfiora il pavimento. Ma non tocca. Controllo l'equilibrio. Ancora qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Goblet squat con peso al petto. Avviciniamo i pesi. Altezza petto. Allargo le gambe. 3, 2, 1. Vai! Goblet squat. Scendo e salgo. Controllo il movimento. Respiro. Non mi fermo. Vai! Vai! Non ti fermare fino alla fine dei secondi. Goblet squat. Respiro. Naso e bocca. Vai! Vai! 10 secondi. Non ti fermare. Su! Vamos! 3, 2, 1. Recupero attivo. Scendiamo a terra. Plank. Gomito. Ginocchio. Andiamo giù. Braccia in linea con le spalle. 3, 2, 1. Salgo in posizione. Gomito e ginocchio. Vai! Prima da una parte. E poi dall'altra. Respiro. Addome contratto. Separo bene i movimenti. isometria nel plank. Avvicino il ginocchio al gomito. Fino alla fine. Vai! Vai! Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Rissaliamo in piedi. Pesiti. E ci prepariamo all'affondo indietro. Peso sulle spalle. 3, 2, 1. Vai! Peso sulle spalle. E affondo indietro. Respiro. Controllo il movimento. Manteniamo l'equilibrio. Sguardo in avanti. Vai! Vai! Respiro. Fino alla fine. Vai! Ancora. Non ti fermare. Controlla. Non andare veloce. Fai lavorare bene. Gambe e glutei. 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Sciolgo. Goblet squat. Con peso al petto. Respirazione. 3, 2, 1. Vai! Goblet squat. Con i pesetti. Vai! Vai! Respiro. Manteniamo il ritmo. Controlla il movimento. Vai! Gambe e glutei. Ancora. Su. Fino alla fine. Dai! 10 secondi. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Avviciniamo il nostro tappetino. Andiamo a lavorare da terra con addominali. Isometria. Ginocchi al petto. 3, 2, 1. Vai! Allungo. Prima una gamba. E poi l'altra. Vai! Vai! Addome contratto. Schiena ben aderente al pavimento. Vai! Prima da una parte. E poi dall'altra. Testa su. Vai! Mi respiro. Fino alla fine. Non mollare. Vamos! Vai! Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci alziamo in piedi. Due pesetti. Per eseguire a fondo della gamba destra. Più spinte. 3, 2, 1. Vai! Gamba destra. Blocco. E vado in spinta. Vai! Blocco. Spinta. Controlo il movimento. Equilibrio. Respirazione. Blocco. E salgo. Vai! Ancora. Controlla la tecnica. Controlla l'equilibrio. Vai! 10 secondi. Non ti fermare. Ancora. Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Sciogli. Respira. Ci prepariamo. All'affondo della gamba sinistra. Con la spinta. Cambiamo lato. 3, 2, 1. Vai! Affondo indietro. Blocco. Blocco. Salgo. Solo la gamba sinistra. Vamos! Vai! Blocco. Salgo. Vai! Blocco. Salgo. Respiro. Sguardi avanti. Non perdo l'equilibrio. Controllo bene il movimento. Vai! Ancora. 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 Vai! Blocco. Salgo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Scendiamo a terra. Plank. Tocco dalle spalle. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Salgo in posizione. Mi assesto. E tocco la spalla. Destra e sinistra. Vai! Respiro. Mantengo il ritmo. Vai! Fino alla fine. Tocco. E tocco. Vai! Ancora. Qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Rissaliamo in piedi. Pesetti. Molleggio su squat. Più spinte in alto. 3, 2, 1. Vai! Molleggio. E spinte in alto. Molleggio. E spinte in alto. Vai! E respira. E respira. Vai! Pam, pam, pam. E spingo. Pam, pam. E spingo. Vai! Molleggio. Gambe glutei. Spinte in spalle. Vai! Su. Su. 3, 2, 1. Recupero attivo. Goblet squat. Più molleggio. Respira. Sciogli. 3, 2, 1. Vai! Uniamo i pesi. Goblet squat. Molleggio. Molleggio. E salgo. E salgo. Vai! Respiro. Ancora. Non ti fermare. Molleggio. Molleggia bene. Giù. E risali. Vai! I secondi. Vamos! Dai! Su. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ponte laterale. Sinistro su. Scendiamo a terra. Respirazione. 3, 2, 1. Dalla posizione. Salgo. E mantengo. L'isometria. Braccio in linea con la spalla. Mano sul fianco. Mi aiuto con l'altra mano. Se perdo l'equilibrio. Rimango in posizione. E respiro. Mantieni. L'isometria. Fino alla fine. Attiviamo questa zona. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Scendo piano piano. Rissali. Prendiamo un pesetto. Per eseguire la fonda indietro. Alternato. Più torsione. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro. Blocco. Torsione. Affondo indietro. Blocco. Torsione. Lavoriamo. Sia a destra. Che a sinistra. Vai. La torsione. È sulla gamba opposta. All'affondo. Vai. Controllo bene il movimento. Vai. Blocco. Torsione. Blocco. Torsione. Vai. Ancora. 1, 3, 2, 1. Affondo indietro. Più. Spinte. In alto. A martello. Teniamo i pesi in questa posizione. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro. Spinte. Cambio gamba. Affondo indietro. Spinte. Vai. Controllo il movimento. Addome forte. Sguardi in avanti. Tecnica. Equilibrio. Vai. Vai. Fino alla fine. Respira. Controlla bene il movimento. Vai. Ancora. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Scendiamo a terra per eseguire il ponte laterale. Sulla destra abbiamo ora. Posizione. Braccio in linea con la spalla. Salgo. Assesto. e mantengo la posizione. E mantengo la posizione. Approfitto per respirare. Respiro. Resisti. Utilizza questo braccio per migliorare la stabilità e l'equilibrio. e anche per il supporto. Per il supporto. Se perdi stabilità. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Risaliamo. Goblet squat con peso al petto. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Posizione. Goblet squat. Con il peso. Vai. Respiro. Sempre posizione. Tecnica. Sguardo in avanti. Spiro col naso. Spiro con la bocca. Vai. 20 secondi. Fino alla fine. Vai. Respiro. 10 secondi. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Squat sumo. Solo un pesetto. Allarghiamo bene bene le gambe. Le punte. 3, 2, 1. Vai. Scendo piano. E salvo piano. Scendo piano. E salvo piano. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Vai. Su. Attiviamo gambe. Glutei. Con lo squat sumo. Attiviamo anche interno coscia. Vai. Ancora. 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 3, 2, 1. Pausa. Siamo arrivati alla fase di stretching. Iniziamo con la divaricata frontale. frontale. 3, 2, 1. Scendo piano piano frontalmente. Senza forzare. Allargo le gambe. Dove arrivo. Mantengo la posizione. Respiro. Senza forzare. Non serve andare oltre la propria elasticità. la guadagneremo col tempo. 3, 2, 1. Allungamento laterale. Scendo da un lato. Punta su. Se riesco vado a prendere la punta. Altrimenti mi fermo. a questa altezza. O anche qua. Mantengo la posizione di stretching. Respiro. Mi raccomando non saltare mai la fase di stretching finale. 3, 2, 1. Cambio. Da altra parte. Posizione. Aiutati bene con le mani. A stabilizzare. L'allungamento. serve a migliorare la propria elasticità. E aiuta. A defaticare. A allungare il muscolo. Fondamentale per un recupero ottimale. 3, 2, 1. Da questa posizione. Possiamo scendere subito in quadrupedia. Ed attivare. La mobilizzazione. Della colonna. Vai. Con la respirazione. Lento e controllato. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Torsione tronco. Arce in avanti. Scendo sotto. Senza forzare il movimento. Mantengo la posizione. E respiro. 10 secondi. E poi cambiamo lato. 3, 2, 1. Risalgo. Braccio in avanti. Torsione. Allungo ancora un pochino il braccio in avanti. Poggio la spalla. Poggio la spalla se riesco. Rimango in posizione. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Risalgo piano piano. Scendo completamente. Mani altezza al tetto. E andiamo in cobra. Non forzare il movimento. Parte alta su. Parte bassa giù. Mantengo la posizione. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Scarico della colonna da terra. Volutei sui talloni. Vado indietro piano piano. Braccia dietro. Scarico la testa. Scarico le spalle. Respiro. Mantengo la posizione. Non forzare. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 3, salgo lentamente. E ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Sempre in forma con FixFit. Condividi i nostri video. Vamos! Ciao! 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 Grazie a tutti